Siamo partiti per raggiungere il gruppo che verrà con noi in Andalusia. Grazie a tutti. Siamo partiti per raggiungere il gruppo che verrà con noi in Andalusia. Grazie a tutti. Ecco qua il simbolo dell'Andalusia, il toro. Grazie a tutti. 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 Eccoci qua tutti posizionati. Siamo arrivati in una delle piazze più belle al mondo. Grazie a tutti. Buonasera. Allora questa sera ci troviamo a Granada e siamo pronti per andare al flamenco. Super pronti per il flamenco questa sera? E anche le mie donne sono pronte per andare a bere il flamenco. E ora siamo pronti per andare a bere il flamenco. Buonasera. 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 Texas, Hollywood La Paz Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.